Ciao a tutti, sono ancora Lollo e sono qua per raccontarvi come state passando questa quarantena questa volta però voglio portarvi in Inghilterra Steve Cortese che in professione fa l'istruttore, l'istruttore di sport estremi chissà come starà vivendo questa quarantena Hey guys, I'm talking to you, this is your teacher of paragliding, Steve Cortese Hey, don't miss the opportunity to join my class because, yeah, of course, coronavirus is coming but hey, what the hell, man? We need to keep on going, so it's easy, we can do it from home Raga, ma che situazione del cazzo, ma come ci siamo trovati, monfa sta cosa We can try our paragliding and throw ourselves into the sky because that's why we are here for Eh sì, ho capito, è lebbrezza, è lebbrezza del volo, ma taci di Nerone, 600 euro Eh, lebbrezza del portafoglio pure, porca proia I'm waiting to join Steve Cortese, class of paragliding Ciao, ma? Mi vedi? Sì Volevo chiedervi se potevate farmi come regalo di laurea per fare parapendio Parapendio? Eh, ora che ti lanci giù Ho bisogno di fare un'esperienza nuova per vedere che posso superare dei limiti miei, capito? Ma io neanche lo spazio, c'è solo il letto Hey guys, welcome to lesson number one of our paragliding class Let's begin with some simple exercise Human beings weren't born as birds, but still, let's do with this simple and joyful exercise Sì, so connessa, sì Ciao Steve, ciao Let's try to emulate a pigeon Vabbè Il... il... il pigeon Now, let's try to do the same by doing it on the stairs Il non ce l'ho lasciato E vabbè, c'è... lo faccio a round E' bellissimo ragazzi Mi sento già free Third step is more like a meditation kind of reflection kind of thing Reflection La riflessione I'm just a human being, but I can fly Canetto Canetto I'm just a human being, but I can fly I'm just a human being, but I can fly I'm just a human being, but I can fly Ma che cazzo sto fa I'm just a human being, but I can fly Mani mortacci, tu arida i miei sordi Sto volando Steve, sto volando hey guys this is lesson number two pardon let's begin with some stretching today make your body more elastic and comfy all right Steve or better for me pigeon oh elastic pigeon second step my dear student is try to give our body the sensation to fly so third and last step we getting closer to the sky so let's bring a jacket believe me or not this is the magic of paragliding up to the sky bye Steve so happy I'm happy Steve super happy si ehm rieccoci qua le nostre puntate non finiscono qua e continuano un saluto a tutti e rimanete connessi ma io voglio capire chi cazzo è che manda questi qua non ho capito ma mi potete mandare della gente che ha qualcosa da dire ma non male